Ciuai, ciuai, ciuai Ciuai, ciuai, ciuai Siamo fatti così Dentro abbiamo il cuore, solido motore Siamo fatti così Muscoli scattanti, sempre scarpitanti Siamo proprio fatti così Questo nostro corpo è meglio di un computer, vedrai Siamo fatti così Siamo proprio fatti così Viaggia assieme a noi, attraverso il corpo umano Siamo fatti così Siamo proprio fatti così E scoprirlo fuori, esplorando il corpo umano Siamo fatti così Siamo proprio fatti così Viaggia assieme a noi, attraverso il corpo umano Siamo proprio, siamo proprio fatti così La circolazione sanguigna In fondo sono solo tre secoli che è stata scoperta In precedenza, l'anatomista belga Andreas Vesal Aveva usato parlarne per primo nel 1543 Con quali risultati? Era stato condannato a morire su un rogo Riuscì a sfuggire per un pelo al boia dell'inquisizione Grazie al suo potente amico Filippo II di Spagna Dieci anni dopo, Michel Servais Parlò anche egli della circolazione sanguigna Egli però non aveva neanche un imperatore Fra i suoi amici Quindi morì sul rogo Quando William Harvey inglese si azzardò nel 1628 A esporre le sue teorie sul ruolo del cuore E della circolazione Venne apertamente deriso A Parigi, 50 anni dopo Il decano Patin insegnava Queste teorie sono sciocchezze Perché come è stato dimostrato Dal maestro di tutti noi Il grande anatomista greco Galeno È assolutamente certo Che il sangue non può circolare Eppure è un fatto Che la circolazione sanguigna esiste Ed è provocata dal cuore È proprio il cuore Che permette la circolazione sanguigna Funzionando come una pompa Spinge il sangue in arterie e vene E con che forza Amici, presto ve ne renderete conto Il cuore è veramente un organo straordinario Con il sangue che fa circolare Durante una vita umana Si potrebbe riempire un tino Da 200 milioni di litri Ed è grande Solo come un pugno di un uomo È strabiliante Non credete? Eh sì È veramente un organo affascinante Lo vedrete Lo vedrete È davvero impressionante Il suo funzionamento È qualcosa di magico Forse può spaventare un po' Ma è ugualmente affascinante Certo è un viaggio molto lungo Soprattutto quando si torna Dalla punta dei piedi Cosa volete farci? Si sa che anche laggiù Hanno bisogno del nostro ossigeno Per poter funzionare E hanno anche bisogno Di disfarsi del loro gas di scarico È questo il nostro compito E tutto passa per il cuore Facciamo parte di un ciclo continuo Il sangue trasporta Globuli rossi Globuli bianchi Piastrine Sali Zuccheri E proteine Eh? Le piastrine sono allegre Vivaci come sempre E i nostri anticorpi Tengono la situazione sotto controllo E sono pronti ad intervenire Se scorgono qualche intruso L'anidride carbonica Io non la sopporto Perché mi fa venire l'oppressione Ora i globuli rossi Sono carichi di anidride carbonica Infatti si trovano Nel sangue venoso Della vena cava inferiore Stanno entrando Nel settore destro del cuore Da dove verranno spinti Verso il polmone Per ricaricarsi d'ossigeno Oh, siamo arrivati alla fine Della vena cava La più importante del corpo Io vi consiglio di chiudere I vostri zaini Ormai siamo molto vicini al cuore Emo si carica sempre troppo Lascia Lascia Mio Dammelo Lascia Ora basta Pensate alla vostra missione Il cuore è formato da due parti Destra e sinistra Che comprendono un atrio E un ventricolo Nella parte destra Si raccoglie il sangue venoso Che viene inviato ai polmoni Per ossigenarsi La parte sinistra invece Imprime al sangue la forza Per circolare in tutti i tessuti Per portare il nutrimento E così siamo finalmente arrivati Nell'atrio destro Una delle quattro sezioni In cui è diviso il cuore Ammirate la bellezza E la maestosità di questo luogo I nostri colleghi là in fondo Arrivano dalla parte alta del corpo Dalla testa e dalle braccia Il loro percorso Come quello che abbiamo seguito noi Porta in questa sezione Tutto il sangue del corpo Senza eccezione E da qui Andremo tutti ai polmoni E come faremo ad andarci? Venite! Questo rumore che si sente che cos'è? Guardate raggiù Avete capito che cos'è questo rumore? Quelle tre linguette Costituiscono la valvola tricuspide Ed è per di là che passeremo tra poco Ma ora Venite a mettervi un po' al riparo Altrimenti Una cosa è sicura Saremo portati via Appena si apriranno di nuovo La valvola tricuspide Come vedete dall'altra parte Si trova una delle sezioni inferiori Il ventricolo destro Che è un posto ancora più impressionante Impressionante Attenzione Sta per arrivare la sistole Preparatevi Questa volta non potremo sicuramente resistere Ma è terribile Io ho una FIFA blu Ma non ce n'è motivo Siamo milioni a fare la stessa cosa Ad ogni battito del cuore È la nostra vita Eccoci siamo Tocca a noi Questa è la contrazione dell'atrio Cioè la sistole atriale Il sangue come potete vedere Gira vorticosamente Perché sospinto da una forza notevole Esercitata dal cuore Anche senza paracadute I globuli rossi non corrono alcun pericolo Atterraggio perfetto Ehi è fantastico Dico sul serio Finora non mi ero mai divertito tanto Guardate bene Accidenti come bello No Oh sì Certo si tratta di una struttura meravigliosa E di un'efficienza davvero strabiliante Ma ci pensate Questa struttura sopporta Tre miliardi di battiti nel corso di una vita Ha detto tre miliardi di battiti Esatto Su venite Cerchiamo di ripararci Guardiamoci intorno Abbiamo giusto un po' di tempo Prima che arrivi un'altra sistole Certo c'è un po' di tempo Prima che giunga una sistole atriale Ma subito inizia la sistole ventricolare Cioè la contrazione del ventricolo Che sospinge il sangue verso il polmone Ecco nuovi arrivi E il sangue che arriva dall'atrio Questa volta toccherà a noi Siete tutti pronti figlioli? Ed ora tocca nuovamente al ventricolo Che sospinge il sangue nell'arteria polmonare È fantastico Pensate Tutto questo avviene più o meno ogni secondo Per tutta la nostra vita Ma seguiamo il percorso del nostro amico sangue Santo cielo Non ho ancora capito cosa mi sia successo Davvero, Nocchi? Tu ci capisci niente? Fantastico, fantastico Un vero sballo Non si potrebbe farlo un'altra volta È stato veramente uno schiatto No, qui il percorso è a senso unico Ma non preoccupatevi Perché torneremo molto presto al cuore Giusto il tempo di andare ai polmoni E tornare Roba da poco È solo la piccola circolazione Boh, sarà Ma è tutto inutile Tanto io non ci capirò mai Perché non vuoi? Non è difficile Ma certo Ti assicuro che è molto semplice Provenendo dalla grande circolazione Cioè alcuni dai piedi O dagli organi E altri dalla testa Siamo arrivati all'interno del cuore Sul lato destro Da lì Siamo appena stati spinti fuori Verso il polmone Dove ci libereremo del nostro carico E immagazzineremo dell'ossigeno Quindi Ritorneremo sull'altro lato Cioè il sinistro Affinché il cuore Ci possa spedire A portare l'ossigeno In tutto il resto del corpo È chiaro, no? Ci vorrà molto Per finire questa piccola circolazione Andiamo alla velocità Di 35 centimetri al secondo Puoi fare i conti L'arteria polmonare Si divide inizialmente In due rami Destro e sinistro Che raggiungono rispettivamente Il polmone destro E quello sinistro Dalle arterie Partiranno poi Rami sempre più piccoli Che porteranno il sangue In prossimità degli alveoli Quelle cellette Nelle quali avviene Nello scambio tra ossigeno E anidride carbonica Della quale ora Sono carichi I nostri amici Globuli rossi Tra cui c'è qualcuno Che vuole fare il furbo E raccogliete tutto È roba vostra Hai fatto bene Ecco Guardate le varie derivazioni Che i globuli rossi Possono seguire Ma quelli chi sono? No Io se fossi al suo posto Proprio non lo farei Signore No Aspetti Un momento Mi dia almeno il tempo Di spiegarle una cosa Vedi Io non sono commestibile Mi deve credere Oltretutto Sembra che io abbia Decisamente un pessimo sapore Che prepotente E voi fuori di qui Merita una lezione Patuglia 8 chiama centrale Ripeto patuglia 8 chiama centrale Aspetti amico Non sia precipitoso Non c'è bisogno Di chiedere aiuto Ci siamo già noi Questi sono gli anticorpi Le nostre potentissime armi di difesa Che partono all'attacco Vi sta bene Vi sta bene Vi sta bene Tutto torna tranquillo E il nostro viaggio Può continuare Così i globuli rossi Insieme ai sali Agli zuccheri Ai grassi Si avviano Verso la zona del polmone A cui erano destinati Ma il percorso Non è dei più semplici Ed è parecchio faticoso Perché il nostro percorso qui È così accidentato Oh la prego maestro Sia gentile Me lo spieghi lei Che sa tutto È colpa dei troppi grassi Nell'alimentazione Ma questo non è niente In confronto a quello Che mi è capitato di vedere Davvero può essere peggio di così Molto peggio Se il percorso viene ostruito C'è l'infarto E si tratta di una malattia Molto grave Anzi volete che vi racconti Una storia in proposito Sì sì ma è successivo Una storia Così almeno ne approfitterò Per riposarmi un po' Una volta Durante una delle mie vite precedenti Lavoravo con altri globuli In un organismo Che non era molto in buono stato Qui i grassi erano troppi E provocavano facilmente Dei danni alle pareti dei vasi Le piastrine erano costrette a ripararli Rendendo sempre più stretto Il passaggio al sangue Avanti al lavoro Facciamo qualcosa Potete venire presto No è tutto inutile Non c'è niente da fare Io non riesco a passare Devi farcela ugualmente Perché è il nostro dovere Naturalmente trovando questi ostacoli E nonostante la buona volontà Il sangue è costretto A scorrere più lentamente E le cellule ne risentono Tutto il nostro organismo ne risente Seguite attentamente questa visita Di che disturbi soffre esattamente? In certi momenti sento come delle punture Dei doloretti nel braccio e il sinistro Come punture di spillo? Sì esattamente dottore Come delle punture di spillo E poi mi viene l'affanno per niente Troppi eccessi La sua circolazione è compromessa Non va per niente bene Ah davvero è soltanto questo? Vabbè allora Come sarebbe soltanto questo? Lei rischia la pelle Se non prende subito dei provvedimenti Io le darò una cura E poi basta fumo Basta alcol Basta sale Basta glassi Basta tutto insomma Dovrà seguire una dieta rigida Capito? Basta alcol ho detto Alla tua salute Alla faccia di quel menagrammo di medico Santo cielo E come era prevedibile Ando a finire che ebbe un infarto Ovviamente con il continuo accumulo di grassi Le vene erano ormai completamente ostruite Non si passava più È quello che si definisce una trombosi Lui comunque riuscì a cavarsela Anzi riuscimmo a cavarcela Sia pur astento Gli esseri umani non sono sempre furbi Adesso coraggio muoviamoci Abbiamo già perso troppo tempo Ha ragione Seguite sempre i consigli del medico Adesso ci stiamo dirigendo verso gli alveoli Uffa che strazio È inutile La nitrite carbonica Proprio non mi piace Ecco gli alveoli Tra poco avremo dell'aria fresca Vedete come sono stretti gli ultimi vasi Che derivano dalle arterie polmonari Sono chiamati capillari E ci si passa davvero a fatica Finalmente eccoci arrivati negli alveoli Guardate come sono felici i globuli rossi Di liberarsi di anidride carbonica E di ricaricarsi d'ossigeno Ah che bello Che bello come mi piace Ma non caricarti troppo Ellie E adesso basta giocare ragazzi Abbiamo un lavoro da portare a termine Infatti il viaggio deve essere ripreso Ma in senso contrario I globuli rossi devono tornare al cuore Eh sì Devo proprio riconoscerlo I vasi capillari non sono molto comodi Buon viaggio amici globuli rossi Chi? Noi? Ma prima distribuiamo meglio il carico di ossigeno Vedete tutte queste piccole vene? Confluiscono in questa che è la grande vena polmonare Che ci riporterà tutti al cuore Cos'è questo rumore? Che cosa succede? Da questa parte presto Uoversi da questa parte Ma cosa sta succedendo? Succede solo che il cuore è al servizio di tutto l'organismo E quando è necessario come in questo caso Accelera il suo ritmo per mandare rinforzi e rifornimenti Non trovate anche voi che tutto questo sia un meraviglioso meccanismo? Ma perché noi non potremmo fare il nostro lavoro senza il cuore? Perché solamente lui ha la forza necessaria per mandarci dove dobbiamo andare Senza di lui la circolazione si fermerebbe E tutto morirebbe per mancanza di irrorazione, capite? Niente da fare, è inutile Io non ci capisco niente Ti prego Emo, non ricominciare ora Cercherò di spiegarvelo ancora Durante uno sforzo fisico Le cellule consumano più nutrimento e più ossigeno Quindi il cuore batte più in fretta E anche la respirazione ha un ritmo più accelerato Mentre avviene tutto questo La caccia ad eventuali intrusi continua E qui un macrofago fa il suo dovere In questo punto finisce il percorso della piccola circolazione Molto presto saremo di nuovo all'interno del cuore Nel lato sinistro questa volta Sempre che non mi stia sbagliando Domando scusa per questa intrusione, caro amico Ma se non sto prendendo un abbaglio Credo che laggiù ci sia un cliente per me Dobbiamo proprio ringraziare il nostro servizio di difesa Infatti è grazie a loro Se virus e batteri vengono fermati Prima che possano causare una malattia A questo punto dovremmo fare il grande salto ragazzi Così il sangue dalle vene polmonari Si tuffa nell'atrio sinistro del cuore È una discesa emozionante Ma tutto bene Emo dove sei finito? Eccomi qua Glubin Santo cielo non ho mai avuto tanta paura in vita È stata una discesa da sballo Accidenti che schianto Vedete? Noi arriviamo da qui, dal polmone destro E quei nostri colleghi che arrivano da là Provengono dal sinistro Adesso preparatevi ad effettuare la discesa Nel settore inferiore E cioè il ventricolo sinistro Sarà il nostro ultimo salto La valvola che separa l'atrio sinistro Dal ventricolo sinistro Si chiama mitrale Ecco che sta per aprirsi E' fantastico, non trovate? Si, si, si Ora ci troviamo nel più forte Dei quattro compartimenti del cuore E da qui partiremo Per il nostro viaggio più lungo Per di là Ora, grazie alla contrazione del ventricolo sinistro Il sangue fuoriesce dalla valvola aortica Per entrare nella più grande arteria del nostro corpo La orta Dalla quale prendono origine le arterie Dirette a tutte le zone del nostro corpo La testa, le braccia, il tronco, le gambe e così via Il passaggio è un po' movimentato Ma ormai ci siamo abituati E quindi è divertente Bello! Bello! Credevo bello! Mi piace! Mi piace! Mi piace! Oddio! È stato È stato È stato Bello e terribile, non trovi? Sì, sono d'accordo Anch'io Bella esperienza Vedete, il fatto è che il ventricolo destro è sette volte più forte del sinistro Ah sì? Non lo sapevo Perché è tanto più forte? Come vi ho già detto, ci vuole molta più forza per mantenere attiva la grande circolazione Si tratta di un viaggio molto lungo Siamo al completo per il momento circolare Non andremo al braccio destro questa volta E a quanto pare non andremo neanche verso il cervello Peccato, sarebbe stato interessante Sarà per un'altra volta Chissà quale sarà il destino dei nostri amici Eccoci qua, figlio Abbiamo iniziato il nostro grande viaggio L'addome, il fegato, la milza, l'intestino e forse le gambe Quindi coraggio e muoviamoci È un organo veramente affascinante il cuore E vedrete che ci torneremo presto Scusi la domanda, maestro Ma un cuore non si può mai riposare? No, non è fatto per la tranquillità e il riposo È fatto per gli entusiasmi e le emozioni Come l'amore Insomma, per tutto quello che dà un po' di sapore alla vita Beh sì È un organo veramente affascinante il cuore Il cuore 10 centimetri per 15 Peso 300 grammi Portata 5 litri di sangue al minuto 8000 litri al giorno Più di 200 milioni di litri nel corso di una vita Il cuore 10 centimetri per 15 Peso 300 grammi 10 centimetri per 15 Siamo fatti così Dentro abbiamo il cuore Solido motore Siamo fatti così Muscoli scattanti Sempre scarpitanti Siamo proprio fatti così Siamo proprio fatti così Questo nostro corpo è meglio di un computer E scoprirlo fuori esplorando il corpo in mano Siamo fatti così Siamo proprio fatti così E scoprirlo fuori esplorando il corpo in mano Siamo proprio fatti così Siamo proprio fatti così Siamo proprio fatti così Siamo proprio fatti così Grazie a tutti.